Benvenuti alla nana puntata di A TUTTO! Reality! L'ISOLA! Oggi si sono aggiunti tre nove concorrenti, Smith, Eric Freddon e Cascò D'Argione. Cascò D'Argione e Smith si sono aggiunti nella squadra dei Fulpi Assassini. E Eric Freddon si è aggiunto nei Leoni Mangia Uomini. Quindi oggi scopriremo chi sarà la squadra che dovrà eliminare un concorrente. A TUTTO! Reality! L'ISOLA! Quindi oggi faremo la stessa roba della volta scorsa. Prenderemo i due bigliettini, li mescoleremo fra di loro e ne pescheremo uno a casa, questo. Dei Fulpi Assassini. Quindi oggi uno dei Fulpi Assassini verrà eliminato. Chi sarà l'eliminato dei Fulpi Assassini? Lo scopriremo subito. Bene. L'eliminato dei Fulpi Assassini è Jack! Eccolo qua! Jack è stato eliminato come tutti gli altri. Quindi per Jack è finita la sua avventura. Ed è finita anche la puntata di A TUTTO! Che è la sua avventura!